La chiusura delle sedi venafrane del Lente Parco e del Museo Winterline è un'ipotesi da scongiurare assolutamente per l'importanza e la loro valenza storico-culturale. Così l'europarlamentare molisano Aldo Patriciello, in una lettera indirizzata alle autorità del territorio, per chiedere una soluzione che possa scongiurare o quantomeno procrastinare la chiusura della sede del Lente e il conseguente trasferimento del Museo Storico Winterline. È necessario, afferma l'onorevole Patriciello, fare i conti con le difficoltà amministrative e burocratiche delle altre istituzioni coinvolte, nonché con l'esigenza di affrontare e dirimere le controverse venutesi a creare a seguito dei cambiamenti che hanno modificato de facto i termini dell'accordo sottoscritto il 15 settembre 2015. Per l'eurodeputato molisano sarebbe importante trovare un accordo tra tutte le parti coinvolte, a partire dal complicato nodo rappresentato dall'aspetto economico e finanziario della questione. A tal proposito scrive «L'esposizione debitoria dell'ente parco nei confronti dello IACP trova la sua parziale giustificazione nel mancato pagamento della quota di finanziamento riconosciuta dalla Regione allo stesso ente parco, ragion per cui potrebbe essere presa in considerazione la creazione di un meccanismo di compensazione tra crediti e debiti sulla scorta di quanto stabilito nel decreto ministeriale del 27 giugno 2016». Infine, l'eurodeputato molisano lancia un appello a prorogare la richiesta di sgombero dei locali finora in utilizzo nel lente parco affinché si apra un tavolo comune in cui discutere i termini della questione nella speranza che le ragioni di salvaguardia e tutela del patrimonio storico-culturale guidino l'azione amministrativa delle istituzioni locali.